Una condizionata per anziani di 7 anni e oltre, non corre il numero 4 Baldomeni, restano in 9, 7 in prima fila e 2 in seconda. Chiusura delle ali, va Pensiero Garro lungo i paletti e Theodor Griff a largo, si contendono la testa, sfila a Theodor Griff su Va Pensiero Garro all'imbocco della prima piegata, 200 iniziali in 13 e 4, Theodor Griff leader, Va Pensiero Garro in seconda posizione, Von Weiss a S in terza, quindi i più attesi nelle prime tre posizioni. Il primo quarto è completato in 28 e 7 da parte del figlio di Varenne, di Peppe Ruocco, risale Fuego de Boulay, cerca di aggirare Vasco Rossi. Il ritmo si mantiene piuttosto sollecito, 43 e mezzo i 600. All'imbocco della seconda piegata, Theodor Griff va Pensiero Garro, Von Weiss a S, Fuego de Boulay e Vasco Rossi a largo, poi Zulu e Grallo lungo i paletti. A metà gara il passaggio è in 58 e mezzo, Theodor Griff ha tre lunghezze di vantaggio su Va Pensiero, chilometro volato in 1'12 e 8, Theodor Griff prova la fuga a palo lontano, Va Pensiero lo insegue, Von Weiss a S si ingamba, o cerca di farlo, tre quarti di miglio in 1'26 e 7, sparato un 13 e 8 di fronte. Theodor Griff sta entrando in retta d'arrivo con margine su Von Weiss a S che prova l'aggancio. Teodor Griff in vantaggio, ci prova Von Weiss ma è ancora lontano, ci prova Von Weiss, va su Teodor Griff in difficoltà, Von Weiss prova l'aggancio, va di dentro e Teodor Griff, Teodor Griff e Von Weiss, Von Weiss e Teodor Griff, Teodor Griff, Teodor Griff, torna sugli scudi, il diavoletto, Little Devil. Teodor Griff, 1'56 e 7, per il 10 anni da Varenne e Deva di Esolo, che fa un gran percorso, va in fuga sin dalle battute iniziali e alla fine stringe i denti come fanno i gran cavalli e respinge un Von Weiss a S che è rimasto un po' dietro nella girare va a pensiero gara. Ma ha corso veramente molto bene anche Von Weiss a S, entrambi alla grande, due cavalli che danno l'anima in pista.